In questo video vedremo 10 modi per posizionare il menù sul tavolo. Ciao sposine, oggi parliamo di menù, ma non nel senso di scelta dei piatti, quello la fate voi insieme al vostro fidanzato e alle vostre famiglie. Io vi darò qualche indicazione per posizionare il menù sul tavolo, quindi come presentarlo ai vostri ospiti? Normalmente cosa succede? Che il catering o il ristorante dove si svolge il matrimonio si propone per stampare i menù e cosa fanno? Ne stampano due o tre per tavolo di quelli pieghevoli di solito appoggiati lì che sono abbastanza anonimi e, peggio ancora, di solito sono personalizzati con il loro logo, non con il logo del vostro matrimonio. Invece il menù è un'opportunità enorme per personalizzare la tavola, se anche non ci dovesse essere il budget per noleggiare piatti, bicchieri particolari, tovagliati, il menù è uno strumento che normalmente non ha dei costi eccessivi ed ha un carattere pazzesco, una personalizzazione notevole a tutta la sala ricevimenti, perciò è un'opportunità da non perdere. L'ideale per rendere il ricevimento più elegante possibile un matrimonio con l'accento è quello di prevedere un menù per ogni ospite, quindi ognuno arriva al proprio posto e trova il suo menù. Questa è sicuramente la soluzione più elegante. Attenzione però se mangiate all'aperto perché appoggiare il menù sul piatto o sul tovagliolo non è sufficiente perché se tira un pochino di vento, anche pochissimo, il menù va per conto suo. Quindi ricordatevi di fissarlo in qualche maniera o di appoggiarci sopra qualcosa, per esempio un segnaposto, un biscotto personalizzato, un cioccolatino, le bolle di sapone, se ci pensate vi verranno in mente mille cose da appoggiare sopra oppure lo fissate con un nastrino e adesso lo vediamo perché questo è uno dei dieci che vi voglio raccontare, i miei modi preferiti di presentare il menù. Il primo è in realtà l'unico modo di presentare il menù che non rispetta questa regola, cioè quella di avere un menù per ogni commensale ed è adatto esclusivamente a matrimoni molto informali o in stile country ed è il menù che viene incollato ad un bastoncino ed infilato in un vaso con i fiori. Quindi la tavola normalmente in questi casi è molto allegra, ci sono i vasi o un unico vaso di fiori ed esce fuori questo cartoncino con da una parte scritto il nome o il numero del tavolo, dall'altra parte la presentazione del menù, in questo modo eviterete di stamparne uno per ciascuno. Attenzione però perché la misura del bastoncino che utilizzerete è fondamentale, quindi sicuramente l'ideale è avere un bastoncino piatto perché così quando ci incollerete i due cartoncini da un lato e dall'altro non farà troppo spessore, però i bastoncini piatti spesso sono corti, quindi vi dovrete assolutamente interfacciare con il vostro fiorista per capire quanto deve essere lungo questo bastoncino per stare bene nel vaso. Se la lunghezza della bassa lingua, non so se avete presente quelli che usano i medici per abbassare la lingua, che normalmente è una misura perfetta, dovesse essere troppo poco, allora dovrete utilizzare quelli che si utilizzano normalmente per fare gli spiedini, quindi sono quei bastoncini più lunghi e sottili, essendo molto lunghi poi sul momento li potete far tagliare perché non sarete voi a tagliarli della lunghezza giusta. Quindi avendo questa accortezza è un modo carino per presentare il menu, ripeto, per matrimoni abbastanza informali. Il secondo modo che è sicuramente molto più usato, vi faccio vedere anche qualche foto di matrimoni realizzati da me, è quello di fissare il menu al tovagliolo attraverso un nastrino, quindi legandolo con un nastrino, una corda, uno spago. Chiaramente è fondamentale in questo caso la scelta del materiale con cui legherete il menu, perché serve a richiamare il tema e lo stile del vostro matrimonio, quindi se è un matrimonio rustico sarà meglio lo spago, se è un matrimonio elegante un nastro di raso, meglio ancora un nastro di seta. Quindi attenzione bene al materiale che sceglierete, il concetto comunque è quello. Tovagliolo piegato rettangolare, menu più o meno dello stesso formato, quindi fatevi dare le misure del tovagliolo, e legato con un nodo, un fiocco, come volete, poi potete fare anche più giri dello stesso spago per renderlo più divertente. Una volta per esempio ad un mio matrimonio, dove c'erano tanti colori nella palette, abbiamo scelto tanti nastrini sottili, e abbiamo legato i tovaglioli usandone due diversi per ogni menu, per ogni tovagliolo, e la tavola era venuta tutta colorata, quindi è un mezzo per rafforzare il tema e lo stile del matrimonio. Il terzo modo è quello di presentare il menu come se fosse un pacchetto regalo, quindi il menu, normalmente sempre in formato rettangolare, sempre da appoggiare o sul sottopiatto o sul tovagliolo, viene incartato e legato sempre con un nastro, con un fiocco, per esempio utilizzando una carta semitrasparente. Io l'ho fatto ad un matrimonio dove già le partecipazioni erano partite con questo concetto di involucro semitrasparente, allora l'abbiamo riproposto per incartare il menu e sembravano tanti pacchettini regalo, l'effetto sulla tavola era molto carino. Un altro modo semplice che non richiede tanta lavorazione, specialmente da parte vostra e neanche da parte di chi gestirà la tavola, è quella di piegare il tovagliolo ripiegandolo solo parzialmente e infilare il menu lateralmente. Vi faccio vedere una foto perché sicuramente è più semplice da capire, per cui del menu esce solamente una sezione. L'accortezza in questo caso qual è? Di non scrivere il menu nella maniera tradizionale perché altrimenti verrebbe fuori un pezzo di menu con l'inizio della scrittura dei piatti e non si vedrebbe la fine perché sarebbe coperta dal tovagliolo, l'effetto scenografico sarebbe bruttino. Invece bisogna sfruttare il menu per far venire fuori la grafica in quella parte che si vede, quindi una bella scritta menu grande, riprendere delle illustrazioni che c'erano nelle partecipazioni che volete portare avanti nei coordinati, quindi sfruttare in maniera creativa quella parte di menu visibile e scrivere il menu o dietro o nella parte che invece viene coperta dal tovagliolo. Un altro modo molto carino che a me piace tanto è quello di creare una fascetta, una fascetta di carta con il menu, in questo caso verrà scritto tutto di fila perché non c'è lo spazio per scriverlo in maniera importante e questa fascetta del colore o della grafica, con la grafica comunque del matrimonio, andrà a racchiudere il tovagliolo piegato a rettangolo. Anche in questo caso l'effetto della tavola è molto carino perché si vedono tutte queste fascette, meglio ancora se colorate, che decorano proprio bene la tavola e sono utili perché sopra c'è scritto il menu, non è solo un decoro. Un altro modo molto elegante è quello di piegare il tovagliolo a tasca che è una cosa semplicissima, potete cercare su internet, trovate sicuramente qualche tutorial che ve lo spiega, ma è veramente facile, e in questa tasca inserire il menu. Anche questo è molto bello, si può poi rifinire con un nastrino o addirittura con il nome dell'invitato legato ad un nastrino nella parte dove c'è il tovagliolo, quindi non nella parte del menu ma nella parte del tovagliolo. È una soluzione molto bella. Attenzione però anche in questo caso ad avere una certa accortezza sulla piegatura del tovagliolo. Perché? Siccome è una piega non naturale, perché quando vengono stirati i tovaglioli dalle lavanderie vengono stirati a quadrato e in questo caso li dovreste aprire e ripiegare in una maniera differente, cadrebbe una piega proprio in mezzo, una piega di stiratura. Perciò dovrete chiedere al ristorante o al catering di farvi stirare i tovaglioli completamente stesi, non piegati, in modo che non ci sia nessuna piega di nessun genere e voi avrete la possibilità di creare la vostra tasca bellissima. Un altro modo che io ho anche utilizzato, mi è piaciuto molto, è quello di stampare il menu all'interno di un cartoncino che poi viene ripiegato. Quindi esternamente si vede solamente la grafica, che può essere il logo del matrimonio, possono essere le iniziali degli sposi, i nomi con la data. Un bel cartoncino importante, quindi anche quello chiaramente fa la differenza del tipo di carta che viene utilizzato e poi aprendolo dentro ci sarebbe scritto tutto il menu. Una cosa carina è quella di decorarlo con un qualcosa di particolare, per esempio aggiungendo una nappina, quindi ripiegando il menu su se stesso, chiuderlo con una nappina che scende giù dal tavolo è un effetto molto carino, molto elegante. Le nappine si trovano di tutti i colori, quindi aiutano anche in questo caso a rafforzare lo stile del matrimonio. Un altro modo molto bello, che ancora non ho realizzato, ma lo realizzerò in uno dei matrimoni di questa stagione, perché è già in lavorazione, è il menu tondo o esagonale o ottagonale da mettere esattamente al centro del sottopiatto. Quindi si dovrebbe chiedere teoricamente il diametro del sottopiatto in modo che il menu calzi perfettamente. È molto particolare, molto bello, vi faccio vedere una foto, quindi non di un mio matrimonio, perché ancora lo devo fare, ma trovo che sia una soluzione veramente particolare. Un altro modo che a me piace tanto e ancora non ho avuto modo di fare è il menu scritto su tessuto. Quindi si prendono dei tessuti e anche in questo caso si può spaziare in tutti i colori possibili e immaginabili. Il menu viene scritto a mano sul tessuto, il tessuto viene fermato sotto al sottopiatto e scende giù dal tavolo. In questo modo decora tantissimo. È bellissimo, per esempio, quando ci sono delle tavolate rettangolari, dei tavoli imperiali, vedere tutti questi tessuti che scendono scritti a mano è stupendo. Si utilizza non per metterci una frase a caso, ma già che c'è, ci si mette sopra il menu. Quindi è un'idea sicuramente intelligente e molto bella a livello decorativo. Ultimo, ma non ultimo, il decimo modo di sistemare il menu sul tavolo è quando sceglierete, se sceglierete, un sottopiatto trasparente, quello di inserire il menu sotto al sottopiatto. Quindi invece di andarlo a decolare con nastri, nastrini, cose varie, in maniera estremamente semplice, si mette il menu sotto e si legge perfettamente in trasparenza del sottopiatto. Va a decorare in maniera molto semplice, non c'è il rischio che voli via, non c'è il rischio che si sposti, rimane perfettamente centrato sulla tavola e l'effetto è bellissimo. Chiaramente i menu da presentare devono essere belli, quindi un occhio di riguardo allo studio della grafica che deve essere coordinata con tutto il resto nei colori del matrimonio, nello stile del matrimonio, perché altrimenti tutto quello che ho detto fino adesso non avrebbe nessun senso. Spero di avervi dato qualche spunto interessante. Vi ricordo, se non ve lo ricordate da soli, che è partito il mio nuovo podcast che si chiama The Wedding Show e quindi mi potete anche ascoltare, trovate la sezione dedicata sul sito Matrimoni con l'accento oppure su Spotify, Spreaker, iTunes e adesso anche su SoundCloud. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!